Sottolineo anche perché è stato un paio di volte già ospite a Omnibus Goffredo Bettini, però questa è la prima volta da quando con un'espressione di codice politico che Bettini ben conosce possiamo dire che è cambiata la fase, insomma senz'altro è cambiato il governo con Mario Draghi. Però io vorrei partire con lei tenendo conto di questo quadro, da una notizia freschissima di ieri che riguarda i 5 Stelle ma conta anche per il PD e cioè il fatto che i giudici del Tribunale di Cagliari dicono che hanno stabilito che Crimi non era il capo politico, non poteva essere lui a fare le espulsioni, l'espulsione sicuramente della ricorrente però perché in quel momento non era il capo politico legittimato e hanno messo lì insomma a capo politico dei 5 Stelle un legale, un avvocato. Allora le chiedo se tutta questa questione, quello che ne è nato, naturalmente dicono che è una decisione che vale solo per Cagliari, non vale sul livello nazionale, tutto quello che c'è però rallenta il percorso di Conte secondo lei e anche insomma che valutazione ne dà? Beh secondo me, buongiorno innanzitutto, secondo me si rende più difficile, sono ulteriori difficoltà per Conte che si è assunto una grande responsabilità con grande generosità e io penso che ci sia la necessità, io non voglio entrare in una discussione interna a un altro partito, però io sento che c'è una necessità che Conte è ribadito più volte di autonomia, di totale autonomia del Movimento 5 Stelle rispetto a elementi di condizionamento esterno e non controllabile fino in fondo da un punto di vista democratico da parte del partito, del Movimento e del suo capo politico. Quindi naturalmente ieri si è verificato un ostacolo ma io penso che alla fine Conte riuscirà diciamo a trovare una strada e a autonomizzare totalmente la piattaforma e anche l'anagrafe degli iscritti del Movimento 5 Stelle per proseguire sulla sua rifondazione che peraltro avrà una tavola di principi è un nuovo statuto che io aspetto con molta curiosità perché davvero è un decollo di una formazione politica che manterrà le sue caratteristiche, anche la parte migliore diciamo delle sue caratteristiche di innovazione che fanno parte della sua storia ma che effettivamente inizierà un nuovo percorso e io mi auguro un percorso di collaborazione con il partito democratico. E questo lo sappiamo e ci arriviamo che lei insomma è il fautore di questa opzione da lungo tempo insomma del precedente governo, insomma è la sua linea. Però